Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Interessato dalle nevicate, sulla direttissima tra Albivio per la Variante e Badia in direzione Firenze, rallentamenti per neve e neve segnalata anche in A15 tra Berceto e Pontremoli. Sulla Fipilico, denuscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra la Strassigna e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Grazie a tutti.